Questo progetto si chiama Virtus, vuole appunto prendere ispirazione dal virus. Ho cercato di focalizzarmi sull'unico aspetto positivo che questo virus possedesse, che appunto è la sua forma. Nel periodo in cui questo lavoro ci è stato commissionato eravamo in piena pandemia e dunque ho cercato appunto di ispirarmi a tutto ciò che stava cambiando le nostre vite. Io provengo dalla danza classica, dunque sicuramente il mio modus operandi deriva da lì, nel senso che l'eleganza, la precisione, l'accuratezza dei dettagli sono tutti principi che mi ha insegnato la danza e che porto con me come bagaglio culturale.